Buonasera, ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Domani la regione inizierà a riprogrammare le terze dosi a oltre 80 anni, case di riposo, operatori sanitari, partendo da quelli in prima linea, come da delibera del Comitato Tecnico Scientifico, dopo una settimana in cui le vaccinazioni sono raddoppiate per l'effetto Green Pass. In Friuli Venezia Giulia non è stato vaccinato il 20% della popolazione sopra i 12 anni, ma l'effetto del Green Pass ha raddoppiato in una settimana le prime inoculazioni. C'è tempo solo al primo di ottobre per ottenere il Green Pass, entro il 15 ottobre senza dover ricorrere i tamponi. Infatti il codice QR code arriva a due settimane della prima dose. Il boom di vaccini si è registrato anche nel centro vaccinale dell'ente Fiera di Martignacco, dove però sono ancora disponibili circa 7.000 posti prenotabili fino all'11 ottobre. Le prime inizioni di vaccino dunque sono passate dalle 5.200 del periodo lunedì-venerdì della settimana scorsa a circa 10.100 dell'attuale. E domani la Regione inizierà a lavorare sull'organizzazione delle terze dosi a oltre 80 anni, case di riposo e operatori sanitari, partendo da quelli in prima linea, così come deliberato dal Comitato Tecnico Scientifico. Andiamo a vedere i dati dei contagi nella giornata odierna. Sono 56 le nuove positività, in particolare su 2.841 tamponi molecolari sono stati rilevati 54 nuovi contagi con una percentuale dell'1,9%. Sono inoltre 5.877 test rapidi antigenici realizzati dai quali sono stati rilevati due casi, 0,03%. Non si registrano decessi, restano 9 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 40. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale è stata rilevata la positività di un medico dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale. Verrà sottoposta a procedimento disciplinare Nunzia Alessandria Schilirò, vicequestore goriziana, già residente a Gradisca di Zonso, vicequestore goriziana della Polizia di Stato, che ieri pomeriggio ha preso la parola sul palco di Piazza San Giovanni a Roma durante la manifestazione contro il Green Pass. Sono qui per dissentire con il certificato verde che è assolutamente incompatibile con la nostra Costituzione. Nessun diritto può essere subordinato a un certificato verde, ha detto Schilirò in un passaggio dell'intervento, in cui ha premesso di essere sul palco ieri a Roma come libera cittadina, ora in attesa dell'esito dell'azione disciplinare a suo carico. E oggi nei comuni di Cordenon, Sepordenone, la Polizia Comunale ha scioperato. Cosa mi è avvenuta prima con nessuna amministrazione comunale? L'80% ha aderito allo sciopero, una situazione creatasi per un malessere organizzativo da diversi anni, sottovarnutando i problemi che di giorno in giorno si accumulavano come intera il sindacato autonomo della Polizia Locale Friuli Venezia Giulia. Aumento delle competenze assieme a una costante diminuzione di personale. In Regione negli anni gli adetti della Polizia Locale sono passati da 1200 a 800. Il SAP o l'FVG infine resta a disposizione per aprire un dialogo con le amministrazioni, che entreranno in carica dopo le elezioni, per dare un servizio migliore ai cittadini, sempre nel rispetto dei diritti dei lavoratori. La cronaca è stata colpita da un masso che si è staccato dalla parete una cinquantina di metri sopra il bivacco al Mangart, mentre era impegnata in una ferrata. Oggi pomeriggio il soccorso alpino ha recuperato una giovane donna di nazionalità spagnola colpita da un sasso. L'incidente è avvenuto a una cinquantina di metri sopra il bivacco Nogara. La donna aveva il casco, ma la pietra era colpita tra collo e nuca. È stata recuperata dal tecnico del soccorso con una vericellata e condotta all'ospedale di Tolmezzo. Due persone sono rimaste ferite in un incidente che si è verificato lungo l'autostrada 4, nel tratto compreso tra Villesse e Palmanova, in direzione a Villesse, questa mattina sulla careggiata est, coinvolti un fuoristrada e un'auto, sul posto per i soccorsi, un'eleambulanza, l'automedica, un'ambulanza proveniente da Gradisca, oltre ai vigili del fuoco di Gorizia. È stato ritrovato l'anziano scomparso sabato a Sacile. Nella serata di ieri le squadre dei vigili del fuoco di Pordenone, assieme a un'unità cinofile della protezione civile, personale del soccorso alpino e volontari della protezione civile, hanno contribuito alla ricerca di una persona anziana che appunto si era allontanata da casa. Dopo una prima ricognizione nelle strade vicine, i soccoritori hanno deciso di cercarla a ridosso della linea ferroviaria, a circa 200 metri della sua abitazione, è stata trovata riversa sull'erba ai bordi dei binari. E così è stata affidata ai sanitari per le prime cure, l'anziano poi è stato riaccompagnato a casa. Oggi a Pasian di Prato si è festeggiato, i 55 anni di fondazione del gruppo folcloristico locale, la 35esima edizione della rassegna itinerante del folclore, un evento che dal 1986 riunisce a sé i gonfaloni di tutti i gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia. L'occasione è duplice, 55 anni di fondazione del gruppo folcloristico Pasian di Prato e la 35esima edizione della rassegna itinerante del folclore. L'ultima domenica di settembre si è così tinta dei costumi regionali e dei vessilli delle loro associazioni, alcune pluricentenarie, per una cornice allegra e colorata assieme ai canti e ai balli più tipici della tradizione friulana. Portiamo a compimento il 55esimo anno di fondazione del gruppo folcloristico Pasian di Prato. Siamo nati appunto in questo periodo, nel 66, per opera di alcuni giovani che in quel tempo si reso protagonisti di questa bellissima avventura che stanno tuttora continuando, ne abbiamo ancora tre con noi, siamo felicissimi. Naturalmente nel tempo ci siamo rinnovati, abbiamo tanti ragazzi, tanti giovani e questo è il nostro biglietto per il futuro. Come gruppi folcloristici stiamo facendo un grande lavoro di divulgazione delle nostre tradizioni anche verso i giovani, nelle scuole, perché crediamo nella capacità formativa dei nostri gruppi e nella volontà di imparare dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Quindi è importante dare loro un segnale, fargli capire da dove vengono, quali sono le loro tradizioni e sicuramente avranno un futuro più roseo e naturalmente più avvincente anche potendo vivere e convivere con noi in amicizia, in felicità e conoscendo anche il mondo naturalmente, perché noi oltre ad andare a rappresentare le nostre tradizioni in Friuli, in Italia e nel mondo, riceviamo anche diversi gruppi ogni anno da tutto il mondo e quindi portiamo anche il folclore e le tradizioni degli altri paesi nella nostra piccola patria. Sarà il primo salone internazionale in presenza del settore della componentistica per il mobile. Parliamo di SICAM che a Pordenone dal 12 al 15 ottobre proporà oltre 500 espositori. Sospesa lo scorso anno per la situazione pandemica, aprirà martedì 12 ottobre in Fiera a Pordenone la dodicesima edizione di SICAM, il salone internazionale dei componenti, accessori e semilavorati per l'industria del mobile. Si tratta della prima fiera che si terrà in presenza a livello internazionale nel settore. Occuperemo sempre dieci padiglioni come due anni fa, visto che poi l'abbiamo posticipata dall'anno scorso a quest'anno. Abbiamo oltre 540 espositori, ci sono tutti i big del settore, ci sono aggiunti nuovi big. La fiera è piena in tutti i suoi spazi e ci aspettiamo anche visitatori non solo dall'Europa ma anche da fuori Europa. Il 28% delle realtà presenti arriverà dall'estero con 53 aziende tedesche, 22 spagnole e 16 turche. Sarà una fiera nel segno della sicurezza e delle tutele. Grata attenzione data infatti al rispetto dei protocolli sanitari con due punti tamponi. Anche quest'anno il quartiere fieristico di Pordenone sarà integrato con una struttura temporanea supplementare, il padiglione 10, costruita e allestita appositamente per la manifestazione. Per Pordenone Fiere, che come annunciato dal presidente Renato Pugliatti, nonostante tutto chiuderà molto probabilmente il bilancio 2021 in positivo, sono in arrivo anche altre novità con due padiglioni mobili. Utilissimi in almeno 5 manifestazioni ogni anno, e quindi saranno montati e smontati, ma saranno progettati, soprattutto la sotto pavimentazione sarà progettata in modo che ci sia un montaggio e smontaggio rapido e anche meno costoso, naturalmente sicuro, e quindi avremo più spazio per poter ospitare le nostre migliori manifestazioni. Si è conclusa ieri al Teatro Verdi di Maniago, la quattro dicesima edizione di Vocalia, festival internazionale di musica promosso dal Comune di Maniago. Si è conclusa sabato con il ritmo travolgente dei britannici Matt Bianco, la quattro dicesima edizione di Vocalia, festival internazionale di musica promosso dal Comune di Maniago. Sul palco, la band ha riproposto alcuni dei loro brani di maggior successo, che hanno segnato gli anni Ottanta. Accompagnato da una band di straordinari jazzisti, Mark Raleigh, fondatore frontman della band, ha trascinato il teatro con eleganza, la finitezza e non vero proprio tuffo negli anni Ottanta, nella loro leggerezza e voglia di vivere. Siamo i nostri brani di maggior successo, che amiamo ancora fare, ancora oggi, quindi noi speriamo di portare al pubblico. Speriamo adesso, dopo Maniago, andremo in Sardegna per due date, poi torneremo a Milano, e se avremo la possibilità di tornare in Italia, lo faremo sempre con tanto piacere. Siamo allo sport, ancora una sconfitta per l'Udinese, alla Friuli per la Fiorentina decida un gol di Vlaovic, sul rigore contestato dai bianconeri, che hanno dominato il secondo tempo. Ma sentiamo il tecnico Gotti. Io non vado mai a vedere gli episodi prima di venire in conferenza, non voglio neanche essere condizionato da cattivi pensieri, non cerco mai le polemiche, però poi vai a rivedertelo il rigore, vado a rivedermelo, e trovo assurdo che si possa dare un rigore di quel tipo lì, trovo assurdo, perché poi ci sono tutte quelle situazioni mezze e mezze, mezze e mezze. Siamo sullo 0-0 con il Napoli, si è andato a rigore questo, il fallo superera, che cos'è? Che io non do rigore neanche là, io non do rigore neanche su De Lofeu, dieci minuti dopo, però se tu dai un rigore di quel tipo lì, dove Wallace sta correndo nella sua direzione, Buonaventura va verso di lui, c'è un contatto, perdere una partita per un rigore del genere, perché sottolineo questa cosa? Perché l'Udinese due anni fa ha avuto zero rigori a favore, dieci rigori contro, l'anno scorso ha avuto quattordici rigori contro, record in Europa, e poi ci vengono spesso a dire che non sono rigori, a Roma Veretù tocca con il braccio la palla, per le regole di quest'anno non è rigore, molto bene, infatti non è rigore, ma l'anno scorso noi subiamo sei rigori di quel tipo lì, quattro non ci sono, e ce lo vengono a dire dopo, allora adesso siamo alla sesta partita, la partita viene decisa da un rigore di questo tipo qua, e non sono così tranquillo. Si è chiusa oggi la Supercoppa di B di basket a Lignano, sfortunata la web contro Faenza, stasera dalle 22 la gara su Telefriuli, a seguire poi la finale per il trofeo di A2. Finisce contro Faenza il sogno di alzare un trofeo a inizio stagione, la Supercoppa di B a Lignano sabbia d'oro, si chiude con la vittoria di Faenza per 76-56, Faenza che dimostra di meritare il vessillo, tenendo di fatto le mani sul manubrio dall'inizio alla fine della gara. Alla Gesteco, già in partenza senza Cassese e Önen, comunque non gira bene, perché al secondo minuto c'è un infortunio alla Caviglia per Laudoni, che esce dal campo e saluta definitivamente il match. Troppe assenze per la squadra di coach Pillastrini per riuscire a mantenere il positivo avvio. Peccato per un team nato solo 14 mesi fa e che in questo breve lasso di tempo ha disputato già due finali, perdendole dei play-off e di Supercoppa. La testa ora è rivolta al debutto in campionato, previsto sabato prossimo alle 19.30, al Palagio Esteko contro Bologna Basket 2016. Prima però per rivedere le emozioni della gara e di una finale comunque storica, appuntamento questa sera su Telefriuli dalle 22.00. A seguire, sempre in esclusive per Telefriuli, media partner dell'evento, anche la finale di A2. Siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità, appuntamento con Sport e FWG per tutti i risultati del calcio di Lettanti. Grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli. Grazie per la visione!